Allora, abbiamo appena finito il Power Gateway. Cosa ne pensi? Allora, credo che sia un corso innovativo, pieno di contenuti. Paolo ci ha trasferito tanta conoscenza sui video appunto da fare che sono l'aspetto fondamentale per poter essere più performanti nel futuro. Si interesse di consigliarlo a qualcun altro? Assolutamente sì, è un corso che dà molta spinta. Grazie, grazie mille.